lunedì 17 dicembre 2018 memoria di san lazzaro di betania dal libro della genesi in quei giorni giacobbe chiamò i figli e disse radunatevi e ascoltate figli di giacobbe ascoltate israele vostro padre giuda ti doderanno i tuoi fratelli la tua mano sarà sulla servizia dei tuoi nemici davanti a te si prosteranno i figli di tuo padre un giovane leone giuda dalla preda figlio mio sei tornato si è sdraiato si è accovacciato come un leone e come una leonessa chi lo farà alzare non sarà tolto lo scettro da giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli dal salmo 71 venga il tuo regno di giustizia e di pace o dio affida al re il tuo diritto al figlio di re la tua giustizia e gli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto venga il tuo regno di giustizia e di pace le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia ai poveri del popolo renda giustizia salvi i figli del misero venga il tuo regno di giustizia e di pace nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna e domini da mare a mare dal fiume sino i confini della terra venga il tuo regno di giustizia e di pace il suo nome duri in eterno davanti al sole germogli il suo nome in lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato venga il tuo regno di giustizia e di pace dal vangelo secondo matteo genealogia di gesù cristo figlio di davide figlio di abramo abramo generò isacco isacco generò giacobbe generò giuda e i suoi fratelli giuda generò fares e zara da tamar fares generò esrom esrom generò aram aram generò aminadab aminadab generò nasson nasson generò salmon salmon generò boz da raccab boz generò obed da rutta obed generò jesse jesse generò il re davide davide generò salomone da quella che era stata la moglie di uria salomone generò robo amo robo amo generò abia abia generò asaf asaf generò josephat josephat generò ioramma ioramma generò ozia ozia generò iotam iotam generò acaz acaz generò ezekia ezekia generò manasse manasse generò amos amos generò josia josia generò ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in babilonia dopo la deportazione in babilonia ieconia generò salatiel salatiel generò zorobabele generò abbiut abbiut generò eliachim eliachim generò azor azor generò sadoc sadoc generò achim achim generò eliud eliud generò eleazar eleazar generò mattan mattan generò giacobbe giacobbe generò giuseppe lo sposo di maria dalla quale è nato gesù chiamato cristo in tal modo tutte le generazioni da abramo a davide sono quattordici da davide fino alla deportazione in babilonia quattordici dalla deportazione in babilonia cristo quattordici costo di maria so la lonti con la lonti la il la